Salve ragazzi, buongiorno, benvenuti in questa nuova video lezione, che tra l'altro rappresenta l'ultima video lezione per la terza. Questo è l'ultimo argomento, come ho detto, che affronteremo. Si tratta di determinare la vera forma della sezione. Ora, cerchiamo di capire con attenzione che cos'è questa vera forma della sezione. Noi abbiamo già realizzato le sezioni dei solidi con dei piani inclinati, in questo caso rispetto a Pio, e perpendicolari a PV. Quindi questa è una costruzione che abbiamo già realizzato e abbiamo anche determinato la sezione di questa piramide. E abbiamo visto come fare le proiezioni ortogonali di questa sezione. Però, quello che io vado a determinare quando faccio la proiezione su Pio, ovvero questa, non è la vera forma della sezione. Perché questa vera forma della sezione, la vedete, io la potrei determinare soltanto se mi mettessi perfettamente perpendicolare al piano su cui questa sezione è poggiata, quindi il piano che ha realizzato la sezione, ovvero questo piano che lo mostro, questo piano qui. Quindi se io mi mettessi perfettamente come punto di vista perpendicolare a questo piano, riuscirei a vedere la vera forma della sezione, però io su Pio ho una sezione che non rappresenta le vere dimensioni di questa sezione. Ve ne accorgete infatti da questo lato, questo lato è più lungo rispetto a quello che vedo su Pio. Quindi, in definitiva, c'è un modo per poter determinare la vera forma di questa sezione. Come faccio? Guardate, questo è il piano di sezione. Non devo fare altro che ribaltare, cioè ruotare, questo piano su PV, cioè fare questo movimento qui. Quindi, facendo questo movimento qui, l'angolo tra questo piano e questo piano, essendo il piano alfa perpendicolare a PV, è un angolo di 90 gradi. Quindi che cosa accadrà? Che tra questa linea, che rappresenta la traccia, ve lo ricordate, e questa linea, che non è altro che la traccia ribaltata su PV di T' alfa, quindi questa è T' alfa, questa è la T' alfa ribaltata su PV, si forma un angolo di 90 gradi. Quindi tutto ciò che è appoggiato su questo piano non fa altro che spostarsi, quindi ruotarsi, ribaltarsi, contemporaneamente alla rotazione del piano su PV. Facendo questo, quando io vado a proiettare su PV, quindi mi metto perfettamente perpendicolare a PV, vedo quella che è la vera forma della sezione. Quindi questo che vedrò, questo pentagono, che resta sempre un pentagono irregolare, non è altro che le vere, sono le vere dimensioni della sezione che ho precedentemente determinato. Quindi questa ribaltata, completamente ruotata, di 90 gradi, perché questo piano, il piano alfa era perpendicolare a PV, e quindi non riesco a determinare le vere, la vera forma della sezione. Come si determina? Questo è quello che accade nello spazio. Quindi state attenti, come dicevo, a questa linea, che è la T' alfa, e questa linea, che è la T' alfa, che è stata ribaltata. E tenete sempre a mente questo angolo di 90 gradi, perché questo angolo ora lo ritroveremo quando faremo le proiezioni ortogonali. Questa qui è PO, guardate, quindi PO, PV, PL. Quindi questa parte qui già l'abbiamo fatta. Ora, attenti a questo. Ricordate, T' alfa, questa linea che vedete qui, non è altro che T' alfa, che è stata ribaltata. Vedete che questo è un angolo di 90 gradi. Quindi questa qui è la T' alfa ribaltata. Basta soltanto posizionare la squadretta a formare un angolo di 90 gradi e riesco a determinare questa linea. Fatto questo, qual è il procedimento per determinare la vera forma della sezione, che è questa qui? Quindi, fino alla sezione non ci dovrebbero essere problemi, perché è un esercizio che abbiamo fatto. Ora, stiamo attenti a identificare con, proprio con attenzione, i diversi punti. Io li ho tutti segnati. Guardate qui. Questo è G' quello che sto identificando. Per determinare il punto ribaltato, devo fare una semplice operazione. Porto G perpendicolarmente su T' alfa. Una volta che ho determinato questo punto, prendi il compasso, lo punto qui, con questa apertura, e ribalto, ruoto, fino a T' alfa ribaltato. Quindi a questo punto io avrò determinato questo punto, quello che sto identificando con il mouse. Fatto questo, sempre parallelamente a T' alfa, traccio questa linea, questa linea fino a, al corrispondente G', vedete? Sto determinando sempre G. Questo è G' secondo. G' secondo perpendicolarmente a T' alfa, fino ad intersegare questa linea qui. Fatto questo, ho determinato G. E devo ripetere l'operazione per ogni punto della sezione. Devo sempre stare attento alle lettere. Quindi mettete le lettere nella sezione. H' primo, lo porto su T' alfa, lo ribalto, fino a T' alfa ribaltato, prolungo H, fino al corrispondente, questo era H' secondo, ed è determino H ribaltato. Faccio la stessa cosa per I' primo. Lo porto sulla traccia, ruoto, determino I', guardate, eccolo qui, I' primo, perpendicolare, perpendicolare, e determino I. Stessa cosa per L, L, guardate qui, L, ruotato, e ultimo F. Una volta che ho determinato i diversi punti, H, I, L, F e G, non mi resta che unirli. Unisco H con G, G con F, F con L, L con I, e I con H. Quella che ho evidenziato, che sto evidenziando adesso, è la vera forma della sezione. Quindi significa che questa misura non è altro che la vera e propria misura del segmento F, G, che è diversa da F, G. Se io andassi a misurare questa misura e questa misura, sarebbero diverse. Bene, con questo abbiamo concludo il nostro percorso sulle proiezioni ortogonali. Vi auguro buon lavoro e arrivederci alla prossima.